Benvenuti su Gossip Italia 24. Prima di raccontarvi cos'è successo, sosteneteci lasciando mi piace al video e iscrivendovi al canale. Per noi è molto importante, grazie. Recentemente, Achille, il figlio di Martina Colombari e Billy Costacurta, è finito sotto i riflettori per alcune foto pubblicate sul suo profilo social. Le immagini mostravano una polvere bianca, con tanti e un passaporto a nome di Achille, accompagnate da frasi ambigue e insulti rivolti a sua madre. In una delle storie, Achille ha scritto lei ne espone quanta ne vuole, taggando direttamente Martina Colombari. Ci si chiede se il figlio della Colombari abbia commesso un errore, se lo abbia fatto per attirare l'attenzione o se il suo account sia stato clonato. Si ipotizza che il profilo di Achille possa essere stato accherato, anche se non ci sono conferme ufficiali. Nel frattempo, Martina Colombari ha ricevuto numerosi commenti sui suoi social, con critiche che le chiedevano di prestare maggiore attenzione al figlio piuttosto che alle sue vacanze. La polizia postale ha deciso di chiudere temporaneamente il profilo per investigare su un possibile attacco informatico e chiarire la situazione. Nonostante questa ipotesi, è noto che i rapporti tra Achille e sua madre Martina non siano dei migliori da qualche tempo. Si attendono ulteriori sviluppi per chiarire esattamente cosa sia accaduto e se vi siano responsabilità. E voi cosa ne pensate di ciò che è successo a Martina Colombari e a suo figlio? Da mamma, voi come avreste agito? Fatecelo sapere nei commenti.